te lo metto su youtube e ti pubblicizzo il locale questo siamo praticamente a ballerò e quindi a palermo mettiamo su youtube e ti faccio una bella cosa che è bellissima il mio amico salvatore da palermo che fa una ricotta che è buonissima fatta al momento freschissima proprio dalle casti baffi e anche cannoli anche cannoli guardate che bondà è proprio lui salvatore e guardate un po che bondà se venite qui a palermo al mercato di ballarò stupendo dove la vedete ma è la ricotta fatta al momento solo con la mitica a palermo anche il ricotta i cannoli con la ricotta freschissimi rinvita adesso ragazzi dei miti guardate qua e anche oggi avete visto una bella street food di palermo vi saluto chi stia domani chissà troviamo a palermo nel mercato di ballarò spettacolo guardate le manifiche arancine le manifiche arancine sono buonissime fate il momento questa è la stigliola ed è bravissima il signor piano non affollatevi così piano prego la volete la stigliola guardate che bontà siciliana la scenografia non la pagate non c'è bisogno di andare a cinesità la paghiamo durante il suo magno ciao ragazzi a dopo siamo a palermo alla bucceria guardate che bontà stigliola street food di palermo Grazie a tutti. Grazie a tutti.